Siamo in Rotonda 1 maggio con un bellissimo giardino progettato alla città di Maranello. Città di Maranello che conosciamo tutti per un motivo, infatti la rotonda è ispirata a questo, alla grande Ferrari, la macchina numero 1 in Italia. Che cosa avete pensato per questa rotonda? Gioco forze, il tema sarà la Ferrari. Quest'anno abbiamo portato un cavallo in legno costruito con del legno di recupero, un tronco di una pianta che abbiamo battuto nei nostri territori, lavorata con motosega e scarpelli. Poi cercheremo di ricostruire, simboleggiare una bandiera a scacchi usando i colori, come colori il bianco e il nero della ghiaia. Verrà ripreso le fioriture dell'anno passato con del bianco sui lati a destra del musetto già esistente e niente, riproporremo anche il prato all'inglese come al solito fare. E al centro la Ferrari però? Chiaramente al centro ci sarà il museo della Ferrari che già da tre anni fa bella mostra nella rotonda primo maggio e niente, un qualche segno col tempo si è evidenziato, cercheremo in qualche modo di recuperarla. Ma anche perché ormai questo museo di questa Ferrari è l'attrazione di tutti i turisti, tutti vengono a farsi le foto con questa Ferrari? Egoisticamente il nostro tema nel giardinaggio ci agevola notevolmente. Anche perché la città di Maranello è conosciuta in tutto il mondo per la Ferrari? La città di Maranello è conosciuta esclusivamente per la Ferrari e per noi è un grosso vanto.